Musica Si è svolto ieri sera alla Casa Rossa di Torre del Greco un convegno organizzato da Fratelli d'Italia insieme a Gioventù Nazionale dedicato alla memoria del giudice Paolo Borsellino. A 30 anni dalla strage di Via D'Amelio è sempre vivo il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno importante per il futuro della legalità. Salvatore Quirino, coordinatore dell'area Miglia d'Oro, questa sera alla Casa Rossa un convegno per la memoria di Paolo Borsellino. Cerchiamo di sensibilizzare i giovani attraverso il ricordo di un grande uomo che è morto per sostenere le sue idee. Siamo qui grazie a questa iniziativa di Gioventù Nazionale che rappresenta per noi una speranza per un futuro di giovani impegnati dal punto di vista civico affinché i valori di democrazia e legalità possono albergare nei giovani e crescere con radici forti. Sono passati 30 anni dalla tragica morte di Borsellino e purtroppo ancora tanti nodi sono rimasti irrisolti e dobbiamo impegnarci tutti quanti insieme per far sì che si trovi una soluzione per il futuro. Penso sia importante parlare di questi temi. Qualcuno pensa sia anacronistico. La legalità ed eroi martiri come Paolo Borsellino sono temi che non passano mai di moda. Quindi è importante che anche una comunità come Torre del Greco ricordi e porti, diciamo, possa portare in alto il nome di quanti hanno dato la vita per il nostro paese, per il nostro Stato, per le nostre istituzioni e per lasciare alle future generazioni un mondo migliore. Io ricordo che nel mese di maggio noi abbiamo ricordato i due giudici con le stragi, Borsellino e Falcone, con tutta una serie di manifestazioni dove le scuole in primis hanno partecipato, c'è stato un corteo, la presenza di magistrati, di Don Patriciello, di Merola, Don Luigi Merola e quello è stato un bel momento. Sono punti di riferimento della nostra democrazia per tutto quello che hanno fatto, la lotta contro tutte le mafie e noi dobbiamo sempre ricordare questi due uomini che hanno dato tanto alla democrazia e alla nostra Repubblica. Un grande uomo che ha lasciato con la sua, addirittura rimettendoci la vita, un grande esempio ai giovani o ai meno giovani perché attraverso l'esempio della vita di Borsellino e anche prima di Falcone hanno dimostrato che con l'esempio, con gli insegnamenti e soprattutto con il sapersi comportare possono e si può insegnare ai giovani la legalità e il modo di saper vivere. Quindi esempi importanti come quello di Borsellino, del giudice Borsellino possono dimostrare alle nuove classi dirigenti e ai giovani e alle nuove società che sicuramente con l'esempio, con il giusto comportamento sia in società, a scuola che a casa che in famiglia si può dimostrare che attraverso le piccole cose si possono dare insegnamenti ai più giovani e dimostrare che anche nel piccolo gesto quotidiano, rispettando la legalità, si può rispettare e dare il giusto esempio a tutti, ma soprattutto si può dimostrare che attraverso quello che è il buon vivere civile e il rispettare gli altri si fa in modo che si rispetti quindi la società e soprattutto si danno insegnamenti culturali che fanno la differenza nel tempo. Rappresenta l'uomo, il patriota, l'eroe nazionale. Ricordiamo Paolo Borsellino perché è un esempio vivo in noi e in gioventù nazionale su tutti i territori e quindi anche Torre stasera è pronta a commemorarlo perché le sue idee camminano sulle nostre gambe e perché come lui ci ha insegnato a Palermo, a Palermo non gli piaceva e proprio per questo è imparato ad amarla e proprio per questo sui nostri territori ci sono tante emergenze dal degrado, dall'illegalità diffusa fino allo spaccio di droga al cielo aperto e sono tutte tematiche che la gioventù nazionale sui territori vuole combattere, vuole denunciare al fianco di Fratelli d'Italia. Grazie